Siamo parte attiva, centrale, direi il motore, della volontà di consentire ai legittimi assegnatari di immobili popolari, in questo caso parliamo di edilizie che può essere o comunale o IACP o altro, sottraendoli a chi in modo prepotente, con la violenza o addirittura con metodi camorristici o perché fa parte delle associazioni camorristiche, entra in modo criminale nel mercato degli alloggi e si inserisce in modo violento in uno dei principali diritti di tutti gli esseri umani, che è il diritto alla casa e il diritto all'abitazione. Negli ultimi comitati, anche alla presenza del Ministro dell'Interno, si è posto questo tema per Napoli e per la città metropolitana di cominciare a fare delle azioni importanti per la liberazione di alloggi occupati dalla camorra. Queste sono, come dire, le occupazioni illegali su cui bisogna concentrare l'unità delle forze, non solo locali, istituzionali, ma anche dello Stato.